Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Call of Duty Black Ops 2. Io sono NexZ e da permettere questo è un video di prova per come registra l'ergato su Call of Duty perché sapete che a me lagga. Quindi ho provato la modalità zombie non online ma offline per vedere anche la grafica, come funziona, come si vede, se ci sono dei micro lag, tutte queste cose qui. Infatti il video durerà poco e ho perso dopo 3 round praticamente perché ancora non so giocare a Call of Duty perché non ho mai giocato. Avevo Black Ops 1 però è da più di un anno che non ci giocavo quindi ho perso tutte le cose che avevo imparato. Adesso sto facendo anche la storia per riuscire a imparare un po' i tasti, un po' la giocabilità. E arriveranno prossimamente i video dove giocherò online e farò anche la zoom online con i miei amici. E ragazzi volevo anche direvi che ho preso Minecraft, non mi piace molto perché lo vedo un po' noioso, però se volete vi porto video tranquillamente. Ragazzi è tutto, adesso vi lascio al video e noi ci vediamo, alla prossima. Ciao ragazzi. Ma che cazzo è successo? Vedere ma non toccare, bello. Mangia la polvere, schifoso. Ehi, è come tornare ventenni. Giù le mani dalle mie tasche, zombie. Non pensare ciò che pensano. Io lo carico. Questa ci voleva. ولare! Grazie. Guarda. 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 potrei farmi un sonnellino morirò portando una gomma sotto il sedile di un autobus eccomi felice come l'ultimo giorno di scuola eccomi